Il CUPA non deve fallire, sarebbe il fallimento della politica e non di una semplice società. Lo dice in una nota il segretario generale provinciale della UIL, Geroacquisto, che interviene sul futuro del polo universitario agrigentino. Siamo partiti nel 2017 con il CUPA, dice Acquisto, purtroppo con le solite difficoltà che ormai stanno portando il polo decentrato di via Quartararo ad un passo dal baratro. L'allarme è lanciato dalla UIL, a conseguente alla richiesta di 9 milioni di euro che l'Ateneo di Palermo ha inoltrato con tanto di atto di precetto al consorzio universitario agrigentino. Sembra che l'università, osserva la UIL, sia diventata un campo da guerra tra la sede palermitana e il CUPA che si è spostata in sede amministrativa. Apprendiamo che adesso l'Ateneo palermitano ha notificato un'ingiunzione di 9 milioni al CUPA che altro non sono che i canoni annuali che il consorzio deve versare alla sede centrale con annesso ricorso da parte del Presidente Armao che impugnerà il pignoramento in atto. Noi come UIL, osserva il sindacato, a questo punto ci chiediamo se l'università d'agrigento deve morire a colpi di sentenze di tribunali civili e amministrativi o se invece, come più volte esposto dal Presidente del CUPA, c'è ancora un margine di speranza per riattivare un polo accademico che ormai da quattro anni vive in una situazione sostanzialmente di morte lenta. Pensiamo che questo patrimonio per il territorio, dopo vent'anni di attività, prosegue la UIL, abbia bisogno di un sostegno e di un atto di responsabilità sinergico tra mondo accademico, politica, enti locali, soci e territorio perché diversamente assisteremo definitivamente alla chiusura di un piccolo gioiello che è stato per Lustri, Volano, per gli studenti che hanno conseguito lauree e opportunità a pieno regime hanno foraggiato economicamente l'indotto provinciale. Intanto il Vicepresidente del CUPA, Giovanni Di Maida, su delega del Presidente Gaetano Armao ha convocato per martedì, 17 gennaio alle 11, in prima chiamata e alle 12, in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci del Consorzo. L'Assemblea si terrà nei locali del CUPA in via Quartararo. All'ordine del giorno le questioni, nel rendi il finanziamento regionale, i consorsi universitari l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e la presa d'atto del recesso dalla compagina associativa del CUPA da parte del Comune di Casteltermini. E infine, nodo spiloso, i problemi che stanno alla base dell'accordo con l'Università di Palermo per la convenzione da stipulare con l'Ateneo Retto da Fabrizio Micari. È stata chiesta la presenza del Rettore di Palermo per discutere della vicenda del pignoramento. Il Presidente Gaetano Armao ha dichiarato che impugnerà l'atto di precetto, scaturito dalla richiesta di recupero del debito precresso. Il Consorcio ha dato incarico all'Avvocato Antonio Barone del Foro di Catania di impugnare e eventualmente chiedere domanda riconvenzionale sull'ingiunzione di pagamento di Unipa. Vista la procedura d'urgenza, sono stati attivati tutti gli atti necessari. Al legale sarà corrisposto un anticipo di 8.000 euro.